E' stata raggiunta l'intesa in conferenza Stato-Regioni sul decreto che prevede 2 milioni per il sostegno alla filiera ovina IGP per gli allevatori. Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che si tratta di un provvedimento particolarmente atteso che va incontro alle difficoltà segnalate dai produttori sul premio accoppiato PAC 2023. Con il decreto il governo interviene per tutelare le tre denominazioni IGP nazionali Abbacchio Romano IGP, Agnello del Centro Italia IGP e Agnello di Sardegna IGP. L'iniziativa sottolinea l'importanza di sostenere le filiere agroalimentari italiane di eccellenza garantendo la continuità e la prosperità dei settori coinvolti. Per Origin Italia, grazie a questo intervento tempestivo, si tutelano non solo le aziende e migliaia di posti di lavoro, ma anche il determinante ruolo che queste filiere hanno a livello di sostenibilità sociale, economica e culturale nei rispettivi territori d'origine.